In questo tutorial utilizzeremo Ultima Business come esempio per vedere come registrarsi nei prodotti dell'ecosistema Ultima. Vai su ultimabusiness.com. Nella finestra in alto a destra troverà il pulsante Sign Up. Cliccaci sopra. Si aprirà la finestra di registrazione di Smart Boss. Questo è il sistema in cui avviene la registrazione. Compila tutti i campi richiesti. E-mail, password, conferma della password, nome, cognome, paese di residenza. Dopo aver compilato i campi devi accettare le condizioni d'uso. Leggile attentamente e spunta le tre caselle sul lato destro dello schermo. Dopo aver compilato i campi clicca sul pulsante Sign Up. Se hai fatto tutto correttamente vedrai un messaggio sullo schermo che indicherà che la tua registrazione è andata a buon fine e che devi confermare la tua email. Per confermare la tua email vai al tuo account di posta elettronica e cerca un'email da noreply.smartpass.com. Se non vedi l'email nella posta in arrivo controlla la cartella spam. Clicca sul pulsante Confirm Email che appare nel messaggio. Fatto! Ti sei registrato con successo in Smart Boss. Clicca sul pulsante Go to Ultima Business per accedere al sito web di Ultima Business. Se hai ancora domande sul processo di registrazione puoi sempre contattare il nostro team di assistenza.